sapevamo che loro venivano qua con grande voglia di vincere perché eravamo andati a vincere a verona noi dieci giorni prima come detto te è stata una partita dove abbiamo dovuto impattare subito fisicamente perché loro come squadra hanno in generale in tutti i ruoli una stazza importante il piano partita era giocare la nostra pallacanestro farli farli correre anche perché avevano un po le rotazioni accorciate e l'abbiamo fatto discretamente siamo riusciti a vincere la partita ottima prestazione anche personale però tante piccole cose forse dei numeri non emergono rendono ancora migliore la tua partita stai aggiungendo tante piccole cose in difesa degli aiuti è lì che può fare veramente una riuscita importante secondo te sì assolutamente a parte le mie cose in attacco il salto di qualità lo posso fare sicuramente con queste piccole cose che anche se non non si vedono sono solo importanti aiutano la squadra soprattutto in partite sporche partite e dure e sto lavorando molto su questo e sono contento se è una cosa che sta dando i suoi frutti insomma grazie a voi